L'udienza preliminare per gli indagati coinvolti nell'inchiesta Scirocco sulla maldepurazione di Calabria è iniziata ieri nell'aula bunker di La Mezzia Terme. Gli inquirenti ritengono di aver scoperto un'associazione a delinquere che per anni avrebbe gestito illecitamente una significativa parte della depurazione delle acque nella regione. Durante l'udienza presieduta dal giudice per l'udienza preliminare Arianna Roccia, le parti si sono costituite. I pubblici ministeri Paolo Sirleo, Domenico Guarascio e Domenico Assuma hanno richiesto il rinvio a giudizio per 28 persone e 5 società coinvolte. In questa fase iniziale del processo, gli enti e le istituzioni individuati dalla Procura come parti offese, tra cui il Ministero dell'Ambiente rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la Regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria, diverse province e numerosi comuni, hanno chiesto di costituirsi parti civili. L'Avvocato Francesco Gigliotti, difensore di uno degli operai coinvolti, è intervenuto sulla costituzione delle amministrazioni locali. Il Gup Rocha ha deciso di rinviare alla prossima udienza, fissata per il 25 giugno, la decisione sull'ammissione delle parti civili. Al centro dell'indagine della Procura vi sono le aziende collegate al gruppo Minieri. Secondo le accuse, la Holding avrebbe partecipato alle gare di appalto per la gestione degli impianti di depurazione, offrendo ribassi significativi superiori al 50%. Gli imprenditori minieri avrebbero ridotto i costi di gestione, risparmiando sia sul trattamento che sullo smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, sia sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie previste dai capitolati d'appalto. Grazie a tutti.